Oggi siamo qui in piazza perché lo slogan è Stop Invasione, difendiamo i nostri confini e è il nostro slogan e quindi non possiamo non avere una comunanza oggi con la Lega, una vicinanza, visto quello che dice anche Salvini e che ha detto in campagna elettorale, soprattutto agli europei. Dobbiamo fermare l'invasione, dobbiamo fermare l'invasione dei clandestini, ma dell'immigrazione in generale che è soltanto monodopera a basso costo, portata qui in Italia e che fa perdere lavoro ai nostri lavoratori. E poi soprattutto oggi diciamo anche Stop all'invasione nell'economia da parte degli stranieri perché noi qui abbiamo la Cina che prema, abbiamo venduto il 35% della rete elettrica nazionale e della rete del gas allo Stato cinese, abbiamo i francesi che hanno comprato tutto l'agroalimentare e il lusso, abbiamo i tedeschi che ci impongono di vendere la nostra ceria e gli indiani, ecco una nazione che in queste condizioni non va da nessuna parte, siamo qui oggi per ribadirlo e per dirlo forte. Siamo noi, siamo noi, Siamo noi, siamo noi, Siamo noi, Siamo noi, Autarchia, socializzazione, Piazza Pau d'Italia è la rivoluzione!